Ciao ragazzi, oggi vi mostro come fare questa stupenda nail art con le borchie, che è fantastica. Come prima cosa, applico la mia base coat, uso questa qui della Essence, sulle mie unghie, lascio che si asciughi e poi vado ad applicare uno smalto nero. Io uso questo qui della Rihanna nella tonalità, che non so che numero è, comunque è un nero. Vado ad applicare lo smalto nero. Poi, per fare l'effetto borchie, vado a prendere questa bottiglina di palline argentate. Queste qui, queste qui le ho prese in un set di per unghie, pagato solo 1,50€ da un negozio così di 50 centesimi. Ma voi li potete trovare anche, ah, più poco dai cinesi. E poi, dovremo prendere un dotter, solo che utilizzo la punta di un eyeliner finito. E quando è ancora non troppo asciutto, andiamo ad applicare le borchiette, come vogliamo. E così continuiamo, fino alla fine, fino al risultato desiderato. Poi, ragazzi, dopo aver applicato tutte le borchie, il nostro risultato è questo qui. E a questo punto andiamo ad applicare il top coat. Io uso questo qui, Sealing Top Coat della Essence. E lo applichiamo anche sulle borchie, così, a parte la lucentezza, ma le nostre borchie dureranno di più. Queste, vi dico a voi, ma dureranno, penso, due giorni, perché sono solo palline attaccate su un po' di smalto, non è che chissà cosa sia. Comunque, è molto carino da vedere. Ed ecco qui. La lucentezza è fantastica. E le nostre unghiette sono pronte. Io spero che questa nail art vi sia piaciuta. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie a tutti.